Musica Bentornato Cutlier, bentornata Andiamo a vedere come si esegue la disinstallazione dei programmi Se vuoi togliere un programma che non utilizzi più dal tuo sistema operativo lo devi disinstallare Come si esegue la disinstallazione? Beh, prima di tutto vai ad individuare, credo che tu già lo sappia, la famiglia di appartenenza al programma Ossia se fa parte della branca di programmi installabili oppure no Se hai un programma stand alone, quindi non installabile, non ti preoccupare più di tanto Perché? Perché non nuoce alla salute del tuo sistema operativo normalmente Se non perché occupa una parte del disco rigido Se proprio non lo vuoi più vedere in mostra, ti sarà sufficiente cancellarlo come un qualsiasi altro file Se invece il programma è installato all'interno del sistema operativo e del suo registro, lo dovrai rimuovere La procedura è molto semplice perché esiste una sezione dedicata del sistema operativo Che permette la gestione e la funzionalità dei programmi installati al suo interno Per accedere a questa sezione dovrai cliccare su Start e successivamente andare ad individuare il pulsante denominato pannello di controllo Cliccaci pure sopra e accederai ad una nuova finestra che presenta diversi pulsanti che più avanti tratteremo Nella quale dovrai individuare la scritta Programmi e funzionalità Cliccaci sopra ed entrerai nell'area di gestione dei programmi installati In questa sezione troverai una lista di programmi più o meno ampia a secondo di quanti ne hai installati all'interno del tuo sistema operativo Dovrai individuare il programma da rimuovere e lo potrai disinstallare in vario modo Ad esempio, puoi cliccarci sopra con il pulsante destro e dal menu che si crea cliccare sul pulsante disinstalla Oppure cliccarci sopra rapidamente due volte O infine cliccare sul programma e andare a selezionare il pulsante disinstalla che trovi nella sezione in alto della lista dei programmi In ognuno di questi casi comunque inizierà il processo di disinstallazione del programma Che porterà alla sua rimozione all'interno del sistema operativo In questa sezione ti ho detto troverai una lista più o meno ampia Sarà sufficiente individuare il programma e o cliccare su questo pulsante O cliccare due volte sul programma da disinstallare Oppure cliccare con il pulsante destro sul programma e dal menu che si genera cliccare sul pulsante disinstalla Nel momento in cui si avvia il programma di disinstallazione Ti sarà richiesta una conferma per avviare il processo di disinstallazione Seguiranno una o più schermate che dovrai controllare affinché tutto avvenga secondo la norma Eventuali altre richieste durante la disinstallazione ti potranno essere presentate Come ad esempio la possibilità di decidere se mantenere o meno alcune impostazioni Alcuni parametri del programma che stai disinstallando per un'eventuale futura reinstallazione Ma comunque deciderai tu a seconda delle tue necessità La procedura di disinstallazione non ha dei canoni perfettamente identici per ogni programma Ma più o meno ricalca quello che ho appena descritto Comunque non si distaccherà molto da questa sequenza Il tempo di durata della disinstallazione varierà in base alla corposità del programma stesso Alle prestazioni della tua macchina, quindi del tuo computer Ma anche e soprattutto direi all'ottimizzazione che sarai stato in grado di mantenere del tuo sistema operativo Più avanti nel percorso didattico definirò meglio quanto appena esposto Se tutto procede correttamente al termine avrai notificata l'avvenuta rimozione E ti sarà sufficiente cliccare sul pulsante ok o chiudi o termina o fine o qualcosa del genere Per terminare tale sequenza Durante l'uso dei programmi del tuo computer troverai che alcuni dei programmi installati nel sistema operativo Presentano essi stessi integrata alla funzione di rimozione Che in inglese è chiamata un install Questa funzione è integrata all'interno della cartella del programma stesso La potrai trovare semplicemente cliccando su Start Successivamente in questa zona sul pulsante Tutti i programmi E dalla lista che si presenterà Andrai ad individuare i vari programmi E in alcuni casi troverai, come in questo specifico, il pulsante di rimozione, di disinstallazione del programma stesso Cliccandoci sopra avvierai il processo di disinstallazione che come hai appena visto In definitiva puoi senz'altro a tua scelta utilizzare l'una o l'altra possibilità Allora Cutler, andiamo a vedere come è possibile disinstallare un programma nella zona dedicata Nella sezione dedicata Clicca sul pulsante Start E poi individua pannello di controllo Cliccaci sopra e si aprirà una sezione Che presenta diversi pulsanti E vai ad individuare programmi e funzionalità Cliccaci pure sopra E si aprirà una nuova sezione Che ti presenta la lista di tutti i programmi Installati sul tuo sistema operativo Individua il programma che vuoi disinstallare Supponiamo di voler disinstallare il programma che abbiamo installato nella lezione precedente Quindi Ccleaner E puoi eseguire una disinstallazione in vario modo O cliccando con il pulsante destro e dal menu che si genera Clicca su disinstalla cambia Oppure selezionare il programma e cliccare sul pulsante disinstalla cambia qui in alto O in ultima ipotesi cliccare rapidamente due volte sul programma che dovrai rimuovere Eseguiamo questa azione E vediamo cosa accade La prima schermata è un benvenuto Clicchiamo pure su avanti Qui ci dà un'ulteriore informazione da dove viene rimosso il programma Che è proprio la cartella all'interno della quale si trova lo stesso Sarà sufficiente in questo caso specifico cliccare su disinstalla per avviare il processo di disinstallazione Processo che varierà da pochi secondi a qualche minuto Pochissimi secondi in questo caso Sarà sufficiente a questo punto cliccare sul pulsante fine Per vedere scomparire il nome del programma precedentemente installato Ricorda per sicurezza di andare a visionare tramite il programma Esplora Risorse All'interno della partizione del sistema operativo troverai o la cartella Program Files o Programmi Vai ad individuare se fosse presente, in questo caso non lo è, ma se fosse presente una cartella o dei file relativi a questo programma In quella determinata condizione dovrai cliccarci sopra ed eventualmente rimuoverlo fisicamente O dovrai utilizzare dei programmi specializzati nella pulizia e nella gestione dei file presenti sul disco rigido e sul registro del sistema operativo Alcuni programmi al termine della disinstallazione richiedono un ulteriore passaggio Ossia quello del riavvio del computer Questo perché potrebbe accadere che presentano un'icona nella Sistray Oppure dovranno cambiare alcuni parametri all'interno del registro del sistema operativo E ciò non è possibile eseguirlo a caldo Quindi al sistema operativo avviato Sarà sufficiente di riavviare per completare in questi casi il processo di rimozione Ma potrai decidere tu se riavviare il computer subito o rimandare Se dovrai altresì rimuovere più di un programma lo puoi fare tranquillamente Ma non in maniera contemporanea, ossia non potrai disinstallare più programmi contemporaneamente Ma in maniera singola, uno dopo l'altro Puoi eseguire quindi tutte le disinstallazioni e solo al termine di riavviare il computer O ancora, puoi terminare tranquillamente il tuo processo di lavoro all'interno della sezione E quindi spegnere il computer Fintanto che il giorno dopo o alla successiva sessione riavvierai il computer Non troverai più tracce del programma Quanto appena descritto, intendo dire non troverai più tracce del programma Però può rivelarsi improprio, anzi spesso è proprio così Questo perché la rimozione standard dei programmi non è perfetta Non è esente da errori Rimarranno spesso delle scorie, dei residui di file All'interno e del sistema operativo E soprattutto nel suo registro Per verificare quanto appena detto Lo puoi fare tranquillamente a tuo piacere Apri e esplora risorse E in alcuni casi vai ad individuare la partizione Dove è installato il sistema operativo Troverai una cartella o più cartelle Denominati programmi o program files Come in questo caso programmi All'interno di queste cartelle Potrai trovare dei file o delle cartelle Di programmi che hai rimosso Puoi andare sulla cartella, sul file E cancellarli manualmente Certo, lo puoi fare Ma non è tutto Perché il lavoro da seguire è più raffinato È più granulare È più penetrante Dovrà riguardare anche il registro E comunque può essere Non solo lungo Se parliamo di registro Ma non è esente da rischi Perché potresti cancellare Rimuovere dei file determinanti Per la stabilità del sistema operativo Nasce quindi la necessità Di utilizzare programmi di terze parti Quindi di altre aziende Che sono nati specificamente I quali eseguiranno una pulizia Da tutte queste scorie E in alcuni casi Anche loro stessi potranno eseguire La disinstallazione Con successiva pulizia Programmi nati Per eseguire questi scopi Ne troverai tantissimi E possono essere appartenenti O alla famiglia di programmi portabili Standalone Oppure programmi da installare Per esperienza personale Te ne cito solo alcuni Lasciami citare Ccleaner Glary Utilities E Revo Uninstaller Questi tre programmi Senza nulla togliere Ad altri magari eccellenti Sono quelli che personalmente utilizzo Anzi personalmente abuso O per chiarirci Non esiste un programma Al di sopra di tutti Che ha piena funzionalità E assoluta certezza E garanzia di pulizia Rispetto ad un altro Ecco perché integro La funzionalità di questi tre programmi In modo da ottenere A mio modo di vedere Un lavoro eccellente In ambito di pulizia Ma soprattutto Con una certa sicurezza Che la pulizia Eseguita da questi programmi Non generi tanni Al sistema operativo Nell'insieme Questi tre programmi Forniscono moltissime funzionalità Infatti sono in grado Di disinstallare i programmi Come già detto Mantenere pulito Il registro del sistema Mantenere pulito altresì Il disco rigido Deframmentare il registro del sistema Deframmentare il disco rigido Operazioni che descriverò più avanti Eliminare file e cartelle inutili Ottimizzare l'uso della RAM Ancora Ti permetterà di visionare E gestire le applicazioni Che si avviano Durante il processo di accensione del computer Ripristinare il sistema Bonificare lo spazio libero Del disco rigido Con la rimozione certa La distruzione dei file In maniera permanente Gestione dei cookie Anche di questo ne parlerò in seguito Gestione della tua privacy E della sicurezza Informazioni sul software E l'hardware installato Nel tuo computer E molto molto altro ancora Come puoi vedere Hanno una capacità elevata Di interazione col sistema operativo E proprio per questo fatto Per quel che mi riguarda Ne hanno decretato La mia piena riconoscenza Per il lavoro frequente Di ottimizzazione Che atto per il mio computer Ma soprattutto In maniera gratuita Tra l'altro aggiungo Che non ho nemmeno utilizzato Tutte le potenzialità Di questi programmi Non ti preoccupare Perché durante il percorso didattico Avrà modo di ritornare Su questi straordinari strumenti Ed altri Ma comunque ti stimolo A scaricare Ed utilizzare autonomamente Questi programmi Visto anche il loro Non difficile impiego In alcuni casi Potresti avere La difficoltà della lingua Ma sono programmi Abbastanza intuitivi Bene Alla prossima lezione Per andare ad esplorare Qualcosa di nuovo Del sistema operativo O dell'utilizzo Del tuo computer Ora un forte saluto Ciao a presto Da Carlo e dalla prossima Ciao a presto